Eccoci qua ragazzi, eccoci Stavo qua, non ho ragazzi per entrare, quando è partita c'è un dialogo, diciamo così, un nemice all'interno della porta, c'è davanti alla porta, e non potevano appunto l'estratta Sfortunatamente ragazzi, non sono riuscito a farlo vedere perché il mio problema di situazione ci mette 4 anni a partire Quindi diciamo, cerchiamo ragazzi di risolvere il problema, un po' così Non ci sono stati problemi, nulla, fantastico A parte il fatto che mi c'erano 4 anni fa a partire una registrazione, e quindi saltarmi un pezzettino dall'assi dell'Aquest E' stato fatto comunque se ne sono stati passi negativi, solo che non posso aprire le porte perché ci sono nemici davanti Molto bene, è un nuovo sistema così di fine di missione, anche se puoi essere leggermente Di ricevere di ruvarsi, insomma Eh, insomma C'è la musica C'è la musica Qualcosa di dolce Io vi è più un pesce, ma dubito E quindi E quindi Dunque lo andrò a parare con il fratello, non andrò nel drift No, devo andare adesso nel fermarmi in modo di Matrix Perché con la testa io posso fare tutto, anche fermarmi in modo di Matrix Comunque la sera ha molto prevedibile che non c'era niente dentro Questo perchè ha detto che il fratello si va già sotto a collezione quindi Ok Ok Sempre ok Che cos'è? Bello Bello Perché è sparata un coso di risorse sotto un masso? Sono fatto casine con ottimizzazione Ai 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 Quindi Se riuscissi a passare sarebbe anche meglio Guardate Guardate un figlio Scusa figlio Attualmente non posso occupato a uccidere la formula tale Oh 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 Sì, un'altra cosa. Un'altra cosa, non? Sì? Sì? E' vero, non era proprio un semplice. Quindi devo entrare dentro il cover? No, mi chiedi a fare evitamente te. So' piombo per tutti. Trovo il vault, io non il vault. Andiamo, andiamo. Questi atti questa famiglia qua è incredibile. Ehm. Ehm. E dunque, questo qua è il vault. Ma sono sincero, non so cosa mi fa lì questa deduzione. Ah si, come difesazione da molte virgolette lo vi metto questo posto, incredibile. Sembra che ci sia il fuoco qua. Ah, è anche uscito fiume dei terzi di notizio. Che sembra più scivolo e il jack in realtà però dettaglio. Il nuovo nemico là. Uno dei tanti nuovi nemici. Vabbè, se proseguiamo con trovare il vault. Se ci fermiamo ad esplorare l'aria, se non finiamo più qua. E mi ha dato quello che il professor evitasse. Scusate se vi è segnalato come nemici. Unico. Cosa devo rifare? Ah, ce ne sono state tanti. Ehm, il giudizio è sempre più difficile. Ehm. 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 Allora, questo, questo, ok, intanto, quando è arrivato l'hawk? Terno è l'hawk, Lloyd. Ah, quando si riferivano ancora letteralmente. Ah, quando si riferivano ancora letteralmente. Non aspettare che si riferavano ancora la possibilità di finire. Sì, questo è l'unico. Sì C'è qualcosa che ti rende meglio di te si senti meglio. E' dove si riesce questo? Stop! Alessi che non mi provi a uccidere. Oh, por favor, tu hai già stato giocato da quando ero. Beh, vorrei che tu abbia. Stop! Tenno, ancora funzionale? Ah, non esco più a sol... a fare i cosi, ragazzi. Il salto rosante. Vabbè, dunque, è vero che il necane... Sia, bello vedere, siamo in questa famiglia qua, è fantastica. Io non mi sono ricordato che c'è neanche dopo salto. Io ho visto un pochino rosso. Questa è la persona che ho ricordato che ho preso le armi sbagliate, anzi non le ho proprio cambiate. Poi ho cominciato a essere anche se i tu primi, invece, sono avanti. Va bene, ma non è così importante. Ma è da quanto da capire che è successo. C'è un taxi, qualcosa per salire più velocemente? La risposta che io sia notte. Male. Ecco il tempo bene. No, credo che qui, da questa volta, ci dovrebbe essere video. No, vabbè, sono fuori. Scusate che sono qui di sapere cos'è il Seymour. Credo che sia madre, eh. Sì, infatti, adesso era... dovrei prendere le quest. Comunque è bello vedere che appena salgo qui funzionino tutto quanto. Cioè, non funziona più niente. Sì, comunque sia... chiamine dalle armi, scusate. Sapete come erano fatti in oro. L'altra sono fatti in oro. L'altra sta fatti in oro. L'altra sta fatti con il cubo e un'altra era una zona. Quindi, sì, un po' di roba dentro. Tera sì, che cosa che abbiamo... Ah, un brocchettino è arrivato. Grazie, non mi interessa in questo momento, eh. Cioè, un po' di roba dentro. Cioè, non mi interessa in oro. Cioè, non mi interessa in oro, non mi interessa in oro. Certo. Io... ho l'ho. Scusate, dovremmo cuocere la mamma? Lascia dormire. Non mi interessa in oro. Certo, sicuramente. Ah, questa c'è la biblioteca. Ha la biblioteca! E ora sappiamo quello che è il binocchio che voglio... bello! Certo. Allora, con il void a cercare, tu sarai due mesi per aiutare in questo frame. Bello mio! Voglio usare il robotone. Certo. 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 Tantano. Cazzi, per vedere la musica sottofondo con... nel senso a fare lo stile del... necramec. Oh, è il necro. Necro o necramec? Necramec. Il binocchio, ragazzi. Il binocchio. Allora. Scusate un po' di ruote e ottenere un po' di ruote. Non c'è tempo per le esercizi. Ma abbiamo bisogno di preparare... Tenet, andate qui. Sì, ho già potuto benissimo vedere come... Premendo Shift, ragazzi, come vedete, sotto al centro... ad una barra che ci indica la... potenza, diciamo così. l'ho segnato. Ah, sicuramente. L'ho in questo caso. Vieni qui. È il zilus i pezzi che sono... Ma io lascio delle scelte del void quando fabbino. Sì, non sia l'idea di se scelta questa roba per soltare, quindi. Poi, ragazzi, mi prenderò a cogliere questi zilver, voglio, ma non ho idea di cosa servono, eh. Però, se le due messe mi chiamano, perché non è necessariamente un mare. Ah, questo è un problema di vita. Ah, ma fa danno un po', non dovrebbe fare danno voglio quest'anno. Spero che, ragazzi, se io fino ad adesso sto giochellando con questo qua, ma, cioè, accogliere quei... i titoli pubbi che mi hanno preso, anche soltare di lui lo voglio, non lo sei. Chiaramente che non è come un Warframe, per girarsi a volte ha dei problemi. manca delle armi, cioè, manca la taccu... a tirare le sberle! E' bellissimo! Ci sono la tia funzionando. Sì, a saltarsi e a perché si parte la cosa succederebbe. Ma è fatto benissimo, cioè... Non so che altrimenti si può avere. Io non voglio capire cosa vuol dire avendo uno... cioè, volendo uno fino a non lo provate, eh. Vabbè, aspetta l'azione potrebbe essere migliore, non lo nascondo, però... Sì, ah! Ok, quindi con l'1 io lancio delle... Presumamente... Ah no, sì, io non premo il tasto 1, quindi lancio delle bombe. Sì, ok. Con peso di metterlo meglio. Mentre se non premo nessun tasto... Sì, c'è nulla. Guarda, perché bisogna ricaricare. Attacco... Adesso vediamo. Adesso vediamo. Adesso noto ora che le bombe sono praticamente rifugianti. Quelli che... Eh, che ci non sopportino. Io sono andato qui, se sarebbe effettivamente questo ha solo il gusto. Vediamo un po' l'aria. Ah, questo è proprio quello che sono diversi, quel tipo il faro. Ah, perché a volte mi fai l'attacco qualche altro, a volte no. Aspetta. Mi sembra che ho visto... Inizio di premere X. Ah, quindi... Inizio di premere X. Inizio di premere X. Inizio di premere X. Inizio di premere X. Di premere X. Inizio di premere X. Inizio di premere X. Inizio di premere X. ecco qua non preoccuparti, grazie ci sono iiii non c'è la mia serie bomb sicuramente a te osto ne va un po' su domandi se sono finiti i necrome che c'erano qua 5 secondi fa non si sa ah ho fitto ne recato ho visto che mi asciugia avanti io non dobbiamo io prendi una ok posso anche sparire in modo e siamo qui sono bussato si bussare ti pensi a me? non c'è ancora la porta dita da sboccare oh dopo neanche ce l'avevo più bello cosa va a decidere se non so mai l'ecco ah ecco la vita del fogo la mia scuola fa pezzo che lo possiamo fare in realtà pezzo non può lo possiamo fare non trovandogli la vita non è vero non è vero non è vero non è vero se uno è distruttibile due pure e dunque manca questo ecco qua il nostro leader che c'è morto cosa dice io non devo stare qui come ah ok adesso è meglio un chiurgo eh se effettivamente si è uscito a distinguere qualcosa o in colori sarebbe meglio anche un chiurgo però ok così lo è morta c'è che pensa di fare una cosa del genere ah vedo che io posso scendere se io quando voglio bene questo mi fa piacere ok anche qui ci siamo qui quello che pensi cosa pensi mother seal the chamber initiando la sequenza via come la vi pass through and beyond chamber sealed that's it for your ride and one way trip but poor snake i'll cut the reroute as soon as the heart's beating you'll be back to your old self again libera non ci sono un po' di più questo è un po' di milani grazie ah dopo più lo infaccio ok ah no agli assi non ho detto è solo un gun che ha colpito l'unico atto che non ah yeah si è impiegato che io diricamente ero dentro al necronist quindi ok però si crede che bisogna aver completato almeno la sila quest di cosa allora interna per aver accesso a questa questa emissione parliamo con nonna non volevamo sviare non volevamo fare tutto lo bisogna fare con lei ok ragazzi dopo quello che è stato un taglio brusco per problemi tecnici dovuto al lag durante qua non 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 Noi sono, mio figlio, mio padre, blustere e spinelesso all at once. Il suo figlio absente, la madre, che non può vedere passare cosa che ha perduto, per vedere cosa che ha, e chi può scoprire i bambini? La figlia, tenta di convincere herself che sia così diversa, che non fa solo per la sua vita. E il figlio, il figlio, il figlio, per il figlio, per la mediocrità. Chi è competente con gli altri, ma in una crisi, possono arrivare insieme. Aspetta. Beh, ragazzi, con questo semplice dialogo abbiamo completato il cuore di Amos. Teoricamente se è appena... Ok, t'azzo io, sono qui di sapere cosa vende. Anzi, fare un giro a tutti quanti, giusto per? Sì. 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 L'ultimo... Colossi per di famiglia. Eh! È rino! Questi essi dovrebbero essere invece delle decorazioni per il nostro Orbiter. ah c'è anche i gifi i foxata bello ornamento della nonna, ah questi sono da ok ciò che c'è sul pianeta i vari cosi se tra l'altro non ho conto la prima cosa che sono consoprati mentre qui abbiamo nonna 150 madre 100 100 100 figlio 100 500 sembra al fatto interessante tra l'altro qui abbiamo Locke e la giurassi tra l'altro c'è l'entrata dietro per Deimos sui mi sono non è Lloyd Lloyd è Lloyd Tu dovresti perdere Otak Sua personale è stata dappata irreparabili Da Deimos'energie E' necessario di trasferire Sua intelligenza Per questo Nel nostro parente Forse Infortunatamente La mia attenzione di defragmentare Sua persona matrice Non è un successo Non è un successo Desserti loro di mio Adesso non ho sposto La serie C2 Anche qui a sedia un pochino di talk Poi analizzare i crezzi di Deimos Sia un loro particolare nome E' bello Aspetta Questo deve essere in grado di riscattare Anche questa si Almeno vi faccio già di Miping I token che anche se in realtà Non valgono di base di niente Qui abbiamo come al solito Le varie parti lavorate Quelli che chiedono anche materie di altri pianeti Questo per esempio chiede Materie di fortuna Questo è pure Ho visto un altro Questo qui in terra mi sembra Quanta roba Maiolliti Quindi dunco la sì Che questo qui Siano sì Infatti I classici minerali Che in realtà abbiamo Tutti i giorni Tutto il giorno E questa è di una forgia Da padre Tutti i giorni Requisiti di parti Ah, questi sono i suoi token Che richiedono tutto bene Credo la fauna del luogo Minchia Si, si crede che queste siano La fauna del luogo Ah, tra l'altro si nota anche quanti ne danno Che noto ora Il x2, x3, x4 Ah, esilio e void sono Invece le minchia Sono le armi qua Quindi sono 1000 punti per questa 1000 per questa Quindi con 3000 punti di parti a casa questo Poi questa è la pistola Sono 4000 punti di parti a casa della pistola Mentre la pistola del Necronec Ovviamente il cristallo non veniva la tizza Ovviamente il cristallo non Sono 4 Quindi 4, 6 8 8 escluso il cristallo Poi quali altri c'è il fucile del Necronec Che sono 5 7 e 50 9 9, 11 10 e 50 Se non sbaglio Che costosette come armi Poi abbiamo Anzi il danno virale per determinate armi Cosa? Che stiletto Questo lo trovo in un po' inutile Efficienza di munizioni mentre si involo La paris Salute per ogni effetto Più un altro per cento di effetto Questa è bellissima come mod Anche se la paris Non so quattro la usano Puoi quadrare il somo Unicolco Mentre la provate di critico Eh Spermiata quando? Ah si Qui sono di ricarico di fondo di armi Che questo qui è Definiamo il classico Mentre se poi qui dovremmo avere Una mente amazza perché male più su Esatto Che dorme Si sente russare Ma mia famiglia Può chiedere a vivere in Deguata di nostre condizioni Ma io Lo accetto Deimos è mia Mastra Se io la chiuso O non Sui piacere Spermi 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 Tenno Spermi Spermi Un' Spermi 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 se le decisioni in cui si può ottenere il nostro cubo in barca si monte cat cavati in feste giusto per vedere le differenze di base l'aspetto di base c'è solo differenza all'aspetto mentre quindi deduco che qua ci sia la differenza tra non so ancora si è leggermente confuso sul scherzo che è la sentita più evoluzione sì che sono tante robe estetiche di base carino che non c'è il cavo c'è stata cosa ragazzi non so vederle tutte perché non ci vediamo scemi problemi delle io a seconda è come si cattiva il cavo qui abbiamo un'etichetta per le catture infatti se lui si occuperà di cattura e i vari animali e scambiate amici etichette bene studia un po le sue merci anche perché lui si dovrebbe contenere ciò che un po tutti noi ci interessa ovvero ecco quasi segmento per le limit piccola anno ma se neanche otto richiede e chiede anche il collaboratore questo adesso vediamo dopo che livello è però dovremmo acquistare lo schema costruirlo che neanche etichette animali un po di risorse e massa muscolare ok tutto quanto nella norma costruirarsi che è di massimo anche 15 ma quanto pare è rotto quindi insomma va bene così poi quanti tipi di animali abbiamo abbiamo due tre quattro cinque animali almeno si credo che qui ora si dovrebbero essere il cavo del pet infested poi qui abbiamo la possibilità di acquistare i terzi di etichette cosa non ci abbiamo voglia di far male abbiamo lì ha senso mentre queste qui è solito adesso per dorare il classico diciamo mentre madre si dovrebbe trovare è giù in fondo io ci sono più grazie ci vediamo dopo io non c'è son da una serie meno che lo so eh io ci vediamo figlia non c'è non c'è non c'è non c'è bene dopo ha questioni sui incarichi quindi suoi cosa chiede perché le pezzi di pesce scusa come ho ottenuto esattamente le pezzi di pesce il misteri della vita sono i pezzi di pesce o ah no che non sono pezzi di pesce colpa mia sempre la fauna e l'uovo poi invece cosa vendi nuova lancia pesca avrei voluto vedere un pochino più nel dettaglio poi abbiamo i classici trofei cos'è? pure le tossine anche quindi credo che sia una sorta di escro altro uno stivale? no mi manca la signora dello stivale pretendo sia uno stivale dov'è? c'è sempre stato darsi uno stivale d'arcogli warfim qui poi abbiamo il resto come sempre si acquistare qui per tagliare il minuzzare filettare su questo qui bene abbiamo tagliato il minuzzato e affettato col pesce che era il modo di conto e mangiato quindi un pochino parli con madre questo non è come ho chiesto di ascoltare un collega ma l'imbarassamento è un luxurio che ho scoperto da lungo infatti mia figlia è un'attività di autore mio figlio è un'attività erogato e mio figlio è un'attività un'attività di sua vecchia ogni ultima di loro mi ha lasciato tutto quello che vuoi dobbiamo buttarsi la reputazione quando è il grande collaboratore quindi è straneo quindi ragazzi bisogna essere già a grado 2 di la fazione ma è vero a conoscente quella bella scusate grado 3 perdonatemi puoi ottenere le mentalist cosa è insomma se è stata una solvezza che questa famiglia si quindi ragazzi abbiamo i vari cosi quindi per avanzare ci serve le spine dorsale ok mentre tutto il resto si dovrebbe richiedere dei token poi abbiamo invece assi qui un bellissimo questo assi non l'abbiamo ancora visto beh in questi assi abbiamo questo volte di isolamento 10 spero che volete coprire tutti e tre per ottenere le ricompense più rare anche c'è più più roba qui invece c'è un pezzi di arma da in giota del necris qui sono altre matrici le vedremo tutto quanto poi poi qui invece ci sono varie missioni quelle danno ricompense di base tutto quanto come la norma tra si dovrebbe anche droppare i pezzi xata no xata 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 q ma si chiama sono sui genici ci sono anche nuove mod che sono qui c'è la pompa colpa cosa fa sembro drash ora se non è nuovo forse mi sono uno sbetto io e qui abbiamo quasi quella che adesso è una nuova arma ecco questa si si vedrà poi insomma questo è tutto quanto per vedere diciamo così e infine assiglio di dirigerci io sono così così forte passa ancora prima che la porta si apra ma ok abbiamo una sicura che è la biblioteca in questo momento di prima qui rimane chiuso perchè effettivamente neclarissi è stato distrutto allora si dovrebbe vedere ombra che mi seguo anche qua dentro che non potrebbe entrare ok ragazzi qui non c'è ok si intromette diciamo così quindi poi qua abbiamo i vari gradi di reputazione che sono solo 3 che bene che è il pezzo dell'arma traccia void token padre ornamenti però di lui per salire il livello con la fazione no aspettate ecco qui infatti abbiamo i vari cosi bene qui invece abbiamo i vari pezzi per crearci quanto per il nostro neclarme che personale bisogna trovarsi di recuperare i pezzi danneggiati con la salma e il cadavere si è un bel po' da fare si è poi abbiamo anche la scenario sale di Deimos e di base ragazzi questo è tutto quello che c'è che Deimos può offrirci in questo momento poi ragazzi vedo quanto costa lo schema per la missione di Inaros Prime alla prossima